Buonasera a tutti, grazie per aver affrontato il diluvio per essere qua, non ve ne pentirete perché chi che sta per vedere è un oggetto molto, molto, molto curioso, ci sono un sacco di cose dentro, è un po' un documentario, un po' un horror, c'è un uso del found footage estremamente originale, abbiamo qui il regista e l'attore protagonista, DM Rollins e Tom marò incontro, l'abbiamo non mi частиano oggi, come è nata il vostro film, da dove è venuta l'idea, perché questa forma Grazie a tutti. And when I see that in an audience that makes me very happy, so I hope you make me very happy. And I assure you that this film will fall under the skin and will be able to be scared. So I'm counting on you. And if you're a filmmaker, it's awesome just to have an audience watch your movie. So thank you for coming. This isn't a standard film as far as horror. I dare I call it horror. But it's a film that we're passionate about making. And I hope you enjoy it. So thanks again. Oh also, after the film, we'll be back to, I guess, give away surprise, I guess. Yes, too. Yes. Restate fino alla fine, spaventatevi fino alla fine, vi posso garantire che sarà così. Non è successo, non è successo. Vi posso garantire che sarà così e alla fine ci sarà una sorpresa, anzi due. e un regista non può fare altro che essere felice di vedere un pubblico assistere alla sua proiezione, alla proiezione di quello che non è un horror standard. Mi domando anzi se sia un horror, ma farlo già molto molto appassionato e mi auguro che anche voi vi appassioniate al film. A più tardi, buon film, buona paura. Grazie. Grazie.